Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Un cordiale saluto amici e amiche di TV6, bentornati all'appuntamento col meteo. L'alta pressione avvolge l'Europa occidentale, mentre l'Italia, in particolare il sud, fa i conti con aria più fresca proveniente dai Balcani, che persisterà ancora qualche giorno, quindi dando luogo ad acquazzoni e temporali, per lo più nelle ore pomeridiane, nei settori interni, da nord a sud. Per quanto riguarda questo giovedì, un tempo complessivamente stabile su buona parte della regione e qualche densamento pomeridiano in montagna. Non ci aspettiamo particolari fenomeni, anche qualche brevissimo piovasco sui rilievi, ma fenomeni molto deboli e di brevissima durata, altrove ampi spazi soleggiati. Le temperature in leggero aumento nei valori massimi, picchi di 28, localmente 30 gradi nei settori interni, minime gradevoli tra i 16 e i 22 gradi. E quindi temperature tutto sommato nelle medie del periodo. Con questo è tutto, grazie per essere stati con noi e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.